La 43enne Ele Noir Casalegno si fa desiderare e non solo dal pubblico degli affezionati telespettatori di Vite da Copertina, programma che riprenderà sempre a fianco di Giovanni Ciacci su TV8. Il programma, infatti, riprenderà la sua corsa a partire dal 20 aprile alle 17,45. Ben 50 trasmesse fino a giugno torneranno ad allietare i pomeriggi degli italiani, ma nel frattempo la bella Casalegno si fa desiderare sul suo profilo Instagram. In un'intervista a di lei è stato proprio Giovanni Ciacci a smentire le voci che circolavano da tempo sullo show, fake news. C'è un comunicato ufficiale che smentisce queste false indiscrezioni. Vite da copertina continua ad andare in onda. Abbiamo cominciato a registrare il 14 aprile e andiamo in onda ancora per 50 puntate, quindi fino a fine giugno. Il mood del programma appassiona proprio perché, raccontiamo storie VIP sempre con ironia, leggerezza e gioia per permettere alle persone di evadere da questa situazione difficile. E viene aggiunto anche qualche dettaglio in più, stiamo preparando una puntata pazzesca su Patrick Dempsey, in occasione della serie Diavoli, tratta dal romanzo di Guido Maria Brera dove sveleremo molte curiosità. Io ho visto alcune immagini e possono dire che sono strepitose. Poi ci saranno tante altre novità e personaggi nuovi di cui prima non avevamo mai parlato. Una puntata ad esempio è dedicata alle veline. Adesso, come è noto, la Corvagna e la Canalis non si parlano più. Sveleremo al pubblico perché. Nel frattempo, Ele Noir Casalegno si dà da fare su Instagram. La sua bellezza spazza via ogni dubbio, sempre al top la 43enne, che fa così sognare fan e affezionati sostenitori di sempre. Con una didascalia che esprime il carattere della showgirl, la Casalegno si mostra in perfetta forma e bella come non mai. Questa è la casa dove sono cresciuta, dove vivono i miei genitori, che non vedo da più di due mesi. Ma è come oggi, ho voglia di ritornare a Ravenna, in Romagna. Pazienza, devo avere pazienza. La parola pazienza ha origine dal latino volgare. Patire. Paziente è colui che sopporta una situazione avversa. Eccoci. Tutti presenti. La fascia nera è un paio di shorts, capelli slegati, espressione sognante, e le noir Casalegno è come mele per le api e i fan non perdono tempo a sottolinearlo. Ti ho già scritto anni addietro dicendoti che sei come il buon vino, migliori con il passare del tempo. Un fiore che non appassisce mai, ma splende di luce propria, stupenda, una bellezza che inorgoglisce noi romagnoli, dolcissima, sei una donna eccezionale complimenti a il senso della vita. E non sbagliano, come si fa a resisterle?